Benvenuti a questo appuntamento con Settimanalis, il primo TgWeb per sordi della provincia di Catanzaro. La sanità regionale calabrese passa sotto leggi da diretta del Governo. Il Consiglio dei Ministri straordinario che si è tenuto a Reggio Calabria ha determinato che la nomina dei direttori generali e dei commissari passi dalla competenza della Regione a quella del Ministro e che i responsabili stessi vengano esaminati ad intervalli semestrali. La scelta per la sede della riunione è stata peraltro contestata da numerose associazioni e organi di stampa catanzaresi come ennesimo sgarbo istituzionale alla città capoluogo di Regione. Con l'ipotesi di reato di concussione i carabinieri hanno arrestato un dipendente della Camera di Commercio di Catanzaro. L'uomo di 62 anni nei mesi scorsi aveva chiesto la somma di 6.000 euro ad un imprenditore che si era rivolto a lui per risolvere una pratica con l'Inps. I militari, dopo aver documentato la consegna di una parte di denaro, hanno arrestato il dipendente sottoposto ai domiciliari. Per lui è scattata anche l'interdizione dai pubblici uffici per un arco di 12 mesi. È morto di cancro Daniele Nuzzi, il militare di Soverato che negli anni scorsi aveva prestato servizio nel primo reggimento carabinieri paracadutisti nei territori bombardati con proiettili all'uranio impoverito. La notizia è stata resa nota dall'osservatorio militare spiegando che si tratta della vittima numero 365. Commozione ai funerali dove hanno partecipato centinaia di persone. Ancora sanità. Sono stati prorogati fino al prossimo 30 giugno i contratti del personale precario dell'ospedale pugliese Ciaccio di Catanzaro. La decisione presa dal commissario alla sanità Cotticelli, di comune accordo con il Dipartimento tutela della salute e i vertici dell'azienda ospedaliera, si è resa necessaria per evitare disagi dovuti all'entrata in servizio di 40 infermieri che avrebbe causato l'uscita di 102 dipendenti. Intanto è arrivato il via libera per altre 300 assunzioni inserite nelle graduatorie dei concorsi completati. Il personale delle sale operatorie dell'ospedale pugliese Ciaccio in accordo con i sindacati ha proclamato lo stato di agitazione per risolvere i problemi sulla carenza di infermieri e sull'organizzazione del lavoro stesso. L'azienda ospedaliera fino a questo momento, secondo i sindacati, non è intervenuta per risolvere la situazione. Nei prossimi giorni sarà peraltro invocato l'intervento del prefetto per scongiurare uno sciopero. Il Consiglio di Stato ha fissato per il 19 settembre l'udienza per discutere lo scioglimento per infiltrazioni mafiose del comune di Lamezia Terme. Lo scorso 11 aprile lo stesso organo aveva accolto la sospensiva richiesta dall'avvocatura dopo la decisione del Tar del Lazio, confermando dunque il commissariamento già prorogato per altri sei mesi. Si sono svolti in tutti i centri della provincia i tradizionali riti della settimana santa che culminano con la messa di resurrezione nella giornata di Pasqua. Di particolare intensità le rappresentazioni della via Crucis nei piccoli centri dell'Ametino ma anche del Soveratese. A Catanzaro consueto bagno di folla per la Naca. Di grande suggestione anche la Naca del quartiere Gagliano, partecipata e teatrale, allestita tra le vie del borgo e con una crocifissione molto realistica. È stato presentato presso la biblioteca di Palazzo De Nobili l'avvio dei lavori di realizzazione di un impianto in fibra ottica a Catanzaro. Gli interventi a cura dell'azienda Open Fibre dovranno essere terminati entro 18 mesi e prevedono l'utilizzo di ben 677 chilometri di fibra ottica per un investimento di 9 milioni e mezzo e il raggiungimento di 37 mila immobili. Aperta al traffico la nuova strada che collega il quartiere Germaneto a Catanzaro Lido. La notizia è stata comunicata dal presidente della provincia Abramo che dopo aver ringraziato dirigenti e tecnici, ne ha sottolineato i benefici per l'intero territorio. Nel prossimo mese di maggio è previsto il completamento dell'opera. Incontro tra il sindaco di Catanzaro, lo stesso Abramo e i rappresentanti degli ordini professionali per discutere sulla valorizzazione del quartiere giovino. Il primo cittadino ha annunciato l'organizzazione di un convegno per il prossimo mese di giugno volto a sottolineare il patrimonio naturalistico dell'area. L'idea è quella di definire un bando aperto a tutti con idee fondate sulla difesa dell'ambiente e senza costruzioni di abitazioni. I parlamentari di Polito e Parentela presenteranno un'interrogazione sulla questione che riguarda le acque contaminate della discarica di Alli alle porte di Catanzaro. I rappresentanti del Movimento 5 Stelle vogliono chiarimenti, dopo i dati dell'Arpacal che ha rilevato nei mesi scorsi, sostanze dannose presenti nelle acque sotterranee. La discarica infatti si trova a poca distanza dal fiume Alli che serve i terreni dei coltivatori della zona. È di un ferito grave il bilancio di un incidente sull'autostrada A2 tra gli svincoli di Falerna e di Lamezia Terme. Un'auto ha perso il controllo finendo contro un tir. Il conducente della vettura è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale in elisoccorso. L'autostrada è rimasta chiusa per diverse ore. Altro ferito è il bilancio dell'incidente stradale avvenuto a decollatura. Una minicar con a bordo due minorenni è sbandata, forse per la pioggia, finendo contro il guardrail. Uno dei due giovani ha riportato ferite serie ed è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Catanzaro. I vigili del fuoco aderenti ad un sindacato autonomo hanno manifestato davanti alla prefettura di Catanzaro per chiedere la stabilizzazione dei lavoratori precari. Secondo il sindacato la mobilitazione si è resa necessaria perché gli impegni presi dalle istituzioni non sono stati rispettati e migliaia di vigili sono ancora in attesa di essere assunti e quindi conoscere il proprio futuro. I manifestanti dei vigili del fuoco hanno consegnato ai funzionari della prefettura un documento da inviare al governo centrale. La Capitaneria di Porto di Soverato, grazie all'utilizzo di tre mezzi nautici, sta proseguendo i controlli su depuratori, spiagge e fondali per salvaguardare la vita umana in mare e garantire la sicurezza della navigazione. L'attività che si estende nelle zone comprese tra la stessa Soverato e Catanzaro Lido ha portato allo sgombero di alcune strutture costruite abusivamente in località Caminia. È stata presentata la rassegna Le vie della seta che nei prossimi giorni partirà dal complesso monumentale San Giovanni di Catanzaro. L'iniziativa molto importante per far conoscere l'arte serica prevede una serie di incontri, appuntamenti e attività ludiche per ragazzi concentrati sulla moda medievale del tempo. Il progetto è stato organizzato da alcune associazioni in collaborazione con archeologi e storici. Calcio per finire, stop forzato per il Catanzaro che dopo l'amaro pareggio di Viterbo non scenderà in campo con il resto del girone in questo fine settimana contro il fallito Matera, ottenendo pertanto i tre punti a tavolino. Con questo successo i giallorossi salgono a quota 61 in classifica, mantenendo intatte le possibilità di posizionarsi almeno in terza posizione play-off. Il turno di riposo sarà ovviamente importante per recuperare anche qualche calciatore infortunato in vista del rush finale della stagione. Era l'ultima notizia per questo appuntamento con Settimanalis. Grazie per averlo seguito. Arrivederci. Grazie per aver guardato il video. Grazie. 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 Grazie.